In compagnia con il maestro e Pizzo. Ciao a tutti. Tutto bene Pizzo? Tutto bene, tutto bene. Ho già parlato con la moglie, il telefono, tranquillo. Quando ti viene trovata tua moglie? Più possibile. Più possibile perché a lui piace la figa, è giusto? A te ti piace la figa? Come no. Oh oh oh, bello. Oggi Pizzo ha un bel vino alla Goc. Mamma mia. Però io non lo voglio bere perché ieri sera ho bevuto un po' però sto bene. Bene, bene, sta bene. oggi invece che poi il video oggi lo facciamo di cena cioè video cena perché io faccio un giorno sì e un giorno no pranzo e cena cena pranzo e cena e cena allora visto considerando che oggi devo fare il video pranzo e cena che ieri ho bevuto tanto smaltisco un po oggi devi mangiare la pancia piena eh la pancia piena fatelo cazzo qui a mangiare sempre sto facendo proprio la pancia guardate stiamo scherzando che pancia sto facendo cioè e niente mi sono fatto una camminata con il motore una passeggiata ho visto il grandissimo pizzico qua con me e oggi non c'è da dire niente di qualcosa vuoi salutare qualcuno non so alessandro saluto alessandro tutti amici ah ok perfetto chi guarda chi non guarda lui è bravo pizzo veramente una bravissima persona non come tante persone che si vede in giro che non ti dà neanche confidenza lui è bravissimo alla doc io sui calapid ce ne sa ce ne sta io sui calapid se ne vanno come il vento io devo tagliare lui no non deve crescere lunghi 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 da quale lo facessi da dietro alla schiena perché il maestro delle tenebre ha anche i capelli lunghi capelli sono la vita è come si chiama come si chiama gli anni anni fa quando mi taglio i capelli è finito è morto eh sì eh e così è lì eh sì highlander ma non mi ricordo va bene non lo sappiamo se io mi taglio i capelli come pizzo sta dicendo c'ha ragione prendo tutte le forze e non deve essere così sì forza finita guardate c'ho ancora gli occhi del sole ma stiamo scherzando no niente ragazzi ci sentiamo alla prossima con romolo e pizzo ciao ragazzi buon pranzo buone vacanze e tutto 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 altro buonasera a tutti alla doc cronovolo e buon giovedì a tutti